Ehi la, bentrovati e benvenuti in questo penultimo appuntamento con Pokémon Alpha Zaffiro Randomizer Nazolock a cure limitate, che ormai le cure non servono più Ci troviamo ancora a Ceneride, oggi andrò alla Via Vittoria Farò tutta quanta la Via Vittoria, ovviamente, la mostrerò tutta, ma manco per il cavolo Prima di cominciare, evoluzione di Ninkada Kyogre Fake, lo facciamo evolvere questo dato? Tra l'altro, ho recuperato alcune pietre per far evolvere altri Pokémon E si possono prendere facendo alcune sfide, questa cosa non la sapevo, devo essere sincero Ma fare alcune sfide contro lo stesso NPC ti regala delle pietre, evolutive Solo alcuni però Ma eccolo qui, Ninkada, vediamo in cosa ti evolvi Dai, fammi vedere sta bella evoluzione di un leggendario sgravato Il leggendario Poliwag Vediamo invece in cosa si evolve Poliwag Speriamo, non qualcosa, una pietra evolutiva, perché sennò devo andarla a prendere Perché so dove si prendono, ma non ce le ho tutte quelle che servono, no? Ah beh, pietrafoglia ce l'ho, a sto giro ce l'ho A dalla profumina fuori ciclamipoli Quella l'affronto di continuo perché vuole sempre combattere Evolviti, per favore, in qualcosa di utile O diventa un Caterpie Che non sarebbe neanche male, si evolve subito Ah, beh, 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 beh Allora, mi viene in mente una cosa Salvo e nel caso Resetto Evolve Allora, dato, diventa qualcosa di bello se no Resetto Ma diventa un'altra cosa che può ancora evolvere Io mi sono fatto due Maroni così a livellare No, per dispetto diventa Motim Perché le femmine possono diventare solo Vespiquin Ma i maschi possono diventare Motim Però questa è femmina, quindi per dispetto Allora Può servire un ghiaccio Può servire Meglio così Oh, eccoci di fronte Ma che fate qui? Accidenti, non ci riesco E io invece ci riesco, guarda un po' Certo è che Potevo vedere le altre abilità Però non lo so Ah, acqua, iu Vabbè, lasciamo perdere, è meglio Guarda un po' come salgo la cascata Vuoi una mano? Non ti regalo la MN Tanto non la userò più dopo questo Piccolo ostacolo qui Ma che bellezza, va Mamma mia ragazzi Allora, la musica di Ridopoli è tipo la più bella del mondo Pronti a prendere d'assalto la via vittoria Wow Questa è veramente bella L'entrata, poi il resto Eh Però, ehi Non attivo il repellente No Non mi piaceva il verso Vediamo chi trovo Può evolvere No ma no ma ye Certo però che se io provo a passargli di fianco Lui devo per forza passargli davanti Per andare avanti Non funziona proprio bene, eh Boh Non so Ho capito che è super efficace Sul rocciorollo Ma era un po' troppo efficace A posto A posto Rocciorollo Ma che co... Lo starter Che palle Vediamo che diventa numero allora Tanto che ci siamo Un livello e via Boh Ho anche una pietra lunare Ora che ci penso Vediamo che diventa Diventa di alga Pacchia Drift Blim Non male Livello basso però Eh sì Cottonì Puro Perché Cottonì puro Nero pietra lui? Ce l'ho di nero pietra Ma che culo Ma che... Non so come c***o Maggiano averle tutte Voi lo finite però Non ho nient'altro A questo punto Ok No 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 Uno potrebbe dire Beh Andre Ti sei visto il log Che hai creato Quando hai fatto la randomizer Il punto è che per sbaglio L'ho cancellato Quel log E non ce l'ho più Quindi neanche potrei vedere Quello che mi serve Salamence Pensavo di aver vinto Eh Ce l'hai fatta alla fine A venire in squadra E mo la squadra è questa Non perdo più niente Ci provo A non perdere più niente Dove ci sono gli allenatori C'è il passaggio Allora Ma non vorrei dire Però Joltik Stuntler Beh dai Su Spinda e Rattata Praticamente il primo avversario Era giusto per farmi perdere Rocciorollo Eh Non poteva comparire qua Un Dusknoir No Va a comparire all'inizio Con calcio in volo Dusknoir Con calcio in volo Ebbè Non manca molto Ci siamo Ehi Link Non ti aspettavo di trovarmi qui Grazie per aver mantenuto La tua promessa Se sono riuscito ad arrivare Fin qui Lo devo a te Link L'ultima sconfitta Contro te Mi ha spionato A impegnarmi a massimo Per diventare più forte Anche tu La tua squadra Avrete sicuramente Superato mille difficoltà Per arrivare fin qui Non è vero Link Siamo diventati Tutti più forti Riesco a percepirlo Anche solo rimanendo così Uno di fronte all'altro Ma questa volta Non mi batterai Vincerò per i miei Pokémon Che mi hanno dato forza E coraggio Allora Fatti sotto Una delle migliori host Di sempre Vai Lino Wooper e Starly Ok Ci stanno Per farmi vincere facile Intendo Allora Lino Che facciamo No Surf Non mi pare il caso Gigabusobo Su Wooper E Un ribaltiero Su Starly Che comunque Non è super efficace Non è super efficace Ma gli fa un bel danno E allora V Super efficace Per 4 E tanti cari saluti Mentre Coda di luce Tacco speciale Cambia Cambia ovviamente In un bel surf Così su Di faro splendido Per farla Tutta particolare Allora Ecco qua Ovviamente Ovviamente Dato che Le regole Sono quelle Che ho lasciato All'inizio Mi permetto Di usare Le pozioni Super pozioni E quant'altro Così a diritto A posto Brutto colpo Serviva Serviva E ora Sono molto più tranquillo Perché la mia vittoria È completata Lino è completato Io Sono soddisfatto Non ha potuto neanche Usare la mega Poverino Dopodutto lo sbatti Per prendere il ciondolo La pietra E niente da fare Ah che rabbia Uff Link Voglio ringraziare Ti e la tua squadra Avete lottato con noi Tingendo tutta la vostra forza Dimostrandoci il massimo rispetto Grazie E poi Grazie di cuore Anche a te Gallade E a tutti voi Mie cari Pokémon Grazie a voi Sentire aver fatto Ancora qualche progresso Ah dimenticavo Questo è per te Link Prendila come ricordo Della lotta Che io e il mio Gallade E il resto della mia squadra Abbiamo fatto con te Pietralbore Usa questa pietralbore Su un Kyrdia maschi Se ti capita Di averne uno in squadra Oggi Non sono riuscito a batterti Link Ma continuerò ad allenarmi E prima o poi Promettimi che la prossima volta Mi concentrerai la rivincita Promettimelo Va bene Te lo prometto E si si può fare la rivincita Controllino E' molto più forte E siamo in mezzo Ai Crisantemi Ma lascia perdere Sto repellente Che siamo arrivati Ai Ridopoli Passiamo Questi similtori E ci siamo Ah magnifica Qui Oh C'è qualcosa Qui Vabbè Non credo fosse L'acqua magica In origine Sembra davvero Una casa giapponese Vecchio stile E' molto Molto bella Allora Abbiamo 4 super 4 Quindi 8 ricariche totali Posso acquistare In totale Per affrontarli Ma io ne prendo 10 Poi prendiamo Un bel po' di perposte Perché comunque ripeto Per chi si fosse perso le regole Che tra uno scontro e l'altro Posso ricaricare Nello scontro sono limitato A solo ricariche totali Certo Nel caso io non abbia usato Le altre cure Contro altri capi palestra Potrei farlo Ma Avrei ancora Una iperpozione Una ce l'ho ancora E Due super pozioni Che potrei convertire A una iperpozione Dato che alla fine Cura lo stesso Quindi avrei Due iperpozioni Ancora Due iperpozioni E un totale Di due ricariche totali A super 4 Non In totale 8 Ma due Per ogni super 4 Quindi devo stare attento A come le utilizzo Amici Per questo video è tutto Nel prossimo Lega Pokemon Finale Della serie Non è stata la serie migliore Che ho portato come Nuzlocke Randomizer La mia preferita forse È stata quella su bianco e nero Che è stata Quella dove mi sono davvero Proprio Spremuto di più Tra commentary Gioco Editing E quant'altro Questa è stata un po' così Devo ammetterlo All'ogni modo In descrizione Trovate come sempre Tutti quanti i link Ai miei social E ci vediamo ovviamente Al prossimo video Ciao 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 Ciao